4 giugno 2015, 4 e mezza del mattino, visto che sono in arrivo molti suisti e le mura che il monumento d'orgoglio è un'attività, 1 giugno 4 e mezza del mattino e visto che ci sta il ponte a bere con tutti i turisti che ce ne sono tutti, ah io i studi a fare un parro poco cesso da venire tutti questi uomini a trovare questi uomini, sta un uomini siete dei grandi vaiù no let's see 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 no let's see